Il canale dell'Associazione Arte e Cultura La Corte di Felsina è nato nel 2012 e raccoglie video documenti di interviste da artisti e scrittori, presentazioni di mostre e di libri, conferenze d'arte e cultura. Se sei appassionato d'arte e cultura questo è lo spazio per te. Se vuoi metterti in contatto con noi scrivi a laporte di felsina chiocciola gmail.com e puoi visitare il nostro sito web www.laportedifelsina.it. Iscriviti al canale e metti i tuoi like. Buona visione!